Scusate, sapete che mi fa compassione? Mi fanno compassione gli scienziati che da Darwin in poi di biologia si sono occupati, che hanno provato a fare di questo nostro bel mondo una mappatura e a capirlo, a condurre ricerche che un'intera vita hanno speso in questo compito, e questo nelle circostanze più difficili, che ora devono sentire che esistono dei dispastici che vogliono confutare la teoria dell'evoluzione, perché è stato Yahweh, Yahweh ha creato tutto quanto e di soli sei giorni ha avuto bisogno e non di 4 miliardi e mezzo di anni, mi dovrebbe venire la scabbia, imbacilli, perché io vi dico, Yahweh, Yahweh è il Dio del Vecchio Testamento, il Dio per il quale più dell'80% del mondo va a incinocchiarsi e di gran lunga è il più spietato personaggio che in letteratura possiate trovare, la vostra Bibbia consultatela, la vostra Bibbia leggetela bene, Yahweh è un manipolatore, sadico, assassino, razzista, maschilista, omofobo, bigotto vanesio, che commette pulizie etniche, sacrifica bambini, con l'uomo si diverte a giocare sadicamente, e questo per testare la forza della fede, un dittatore che ha creato consapevolmente il cielo, la terra ed umanità tutta, perché cadessimo ai suoi piedi, sulle nostre umili ginocchia in adorazione, e in paura e in terrore cantassimo la sua grandezza, non sono stato creato a sua immagine e somiglianza, da un Dio del genere non prendo lezioni, io sono migliore di questo, io sono, io sono una sceglia, sì e ho paura, lo so anch'io che devo avere rispetto del mio prossimo, altrimenti il mio prossimo mi ripeterà un bel cazzotto dritto sull'uso, adesso basta, lascia, lascia stare, abbiamo creato delle divinità, perché avevamo paura, per timore, per ignoranza, ma se qualcuno ci raccontasse che il fulmine è il Dio Thor, che maneggia il suo martello, che cosa direste? Voi comincereste a sghignazzarvi in faccia, ancora un Dio di cui liberarci, un Dio di cui liberarci, un Dio di cui liberarci! Mia figlia Maybel, la mia figlioletta è morta, perché determinati esperimenti vengono considerati immorali dalla comunità religiosa, e questo tutto sommato è un dettaglio, ogni anno vogliono milioni di persone, perché non si può fare l'amore con il preservativo, per bell'ottuso che chiamano papà, quindi Maybel è solo un dettaglio, estolicamente, ma per me non lo è, per me lei è! Grazie!